Catania è la seconda città più grande della Sicilia, con una popolazione di circa 300.000 persone. Si trova ai piedi del Monte Etna, che è un vulcano attivo. Molti edifici, chiese e ponti a Catania sono fatti di roccia volcanica. Un elefante che si chiama Lyotru è diventato simbolo ufficiale della città in 1239. C'è un luogo. Grazie a tutti. Gli archi della marina sono il viadotto ferroviario Catania e Siracusa. Cento anni fa erano immersi nell'acqua di mare, ma oggi sono sulla terraferma. Grazie a tutti. 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 Bellini è stato un grande compositore catanese. Ora ascoltiamo parte della sua opera, la Sonnamo. Il terreno volcanico è perfetto per la cotevazione di ortaggi, agrumi e vignetti. Ecco perché intorno al volcano vive il 20% di tutti i siciliani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.